È il giorno del concorso il pico dell'amicizia e Anna consegnerà la coppa! L'attrezzatura per il campeggio è pronta, tutti al lago! Oh no, non arriveranno in tempo! Anna su Cayenne può ancora farcela! Il concorso sta iniziando, è il turno di Sofia! Anche Lisa è in gran forma! Vittoria! E ora ecco la coppa! Ti aspettano divertenti avventure con i Cavalli Horse Club di Schleich!